Palermo al voto 2022. Manca pochissimo alla giornata che porterà al cambio del Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco di Palermo. Il nostro approfondimento è con i consiglieri comunali a cui abbiamo rivolto delle domande. Come si può cambiare questa città? Attraverso un argomento fondamentale, quale la viabilità e la mobilità. Vediamo com'è andata. Palermo ha evidenti problemi dal punto di vista della viabilità, delle criticità che sono sotto gli occhi di tutti. Tutti siamo rimasti incolonnati ore e ore in direzione Trapani per il cantiere all'altezza di Via Paternò. Tutti siamo rimasti interminabili, per interminabili ore, fermi sul Ponte Corleone in attesa di poterlo attraversare, di poter transitare sul Ponte Corleone. Ebbene, nell'immobilità totale degli altri politici, il Movimento 5 Stelle si è mosso cercando di rompere il circuito vizioso che si era generato di rimbalzo di responsabilità. Tra il Comune e la Regione non si sapeva chi doveva trovare i soldi per mettere mano e risolvere queste due problematiche. Ebbene, il Movimento 5 Stelle ha finanziato con 8,5 milioni di euro il ripristino del Ponte Corleone. Sono stati trovati i soldi per attivarsi e finalmente avere uno studio sulla necessità di consolidare il ponte sul suo stato di salute. Gli altri 7 milioni, grazie ad una convenzione con ANAS, saranno fondamentali perché da settembre partiranno finalmente i lavori relativi al progetto di consolidamento del Ponte Corleone. Per quanto riguarda invece il cantiere in direzione Trapani, il Movimento 5 Stelle anche qui è intervenuto trovando i fondi. Quindi finalmente il cantiere è ripartito e dentro luglio i lavori libereranno la carreggiata centrale e si tornerà ad avere una strada, una arteria principale assolutamente percorribile in tempi decenti. Palermo è una tra le dieci città più trafficate al mondo, lo dicono dati ufficiali. Non è un primato di cui andare orgogliosi. Come intervenire? Sicuramente migliorando la viabilità ma anche trovando strumenti di mobilità alternativa. Molto è stato fatto dall'amministrazione precedente, le cui scelte però non sono sufficienti a migliorare questo aspetto per la vita e la qualità della vita dei cittadini. In termini di mobilità dolce sono stati implementati diversi punti di bike sharing, di monopattino sharing. Il monopattino è diventato uno strumento per muoversi per la città in maniera smart, veloce, il mezzo preferito dai giovani per spostarsi rapidamente da un punto all'altro nel centro della città. Ovviamente sono delle risorse che devono però essere regolamentate. Non è possibile avere la paura di camminare sul marciapiede ed essere investiti da un ragazzo in monopattino. E quindi va regolamentata la circolazione di questi mezzi che tra l'altro assolvono ad una vocazione naturale della nostra città. Palermo è praticamente tutta in pianura e quindi non utilizzare, non sfruttare queste risorse è veramente un delitto. Altro tema importantissimo è quello delle linee del tram. Il Movimento 5 Stelle si è adoperato per trovare i fondi per completare, implementare le linee attualmente mancanti. Verranno collegate Bonagia, Falso Miele, Lozen, Sferra Cavallo, Mondello, con evidenti ricadute positive anche in termini di servizi ai turisti. Fondamentale anche l'intervento per l'ultimazione dei lavori relativi alla linea di via regione siciliana altezza Corso Calatafimi che una volta collegata con la stazione d'Orlea diventerà un punto fondamentale, un mezzo fondamentale per gli studenti di quella zona. Allora innanzitutto abbiamo bisogno di fare una pianificazione a largo raggio perché Palermo è una città che non è stata ben pianificata. Ricordiamo che il piano regolatore non è ancora stato approvato e diciamo che tutto è stato gestito in modo abbastanza disorganizzato e disomogeneo. Quello che noi vogliamo fare è principalmente lo sblocco dei cantieri, soprattutto quelli che non sono soltanto di pertinenza della città metropolitana quindi anche di concerto con l'RFI, quindi lo sblocco dei cantieri è incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico, dell'anello ferroviario, del passante ferroviario, del tram e anche sicuramente implementare il parco automezzi di Amat sui automezzi poco inquinanti. Pensiamo a quelli elettrici, pensiamo a quelli a metano. Abbiamo pensato anche a una navetta che copre il centro storico, che sono luoghi caldi relativi alla movida e a soggetti a diverso ingolfamento, soprattutto nelle ore serali. Sicuramente un passo importante che noi vogliamo fare è l'istituzione Mobility Manager all'interno del comune, degli uffici comunali che sarà punto di riferimento anche con tutti gli altri attori della città, le università, gli ospedali, le scuole per studiare delle modalità di mobilità dolce e sostenibile per i dipendenti. Inoltre la pianificazione deve assolutamente essere inserita in un progetto di intermodalità e interscambio. Cosa voglio dire? Intendo parcheggi situati in posti strategici, intendo fermate con colonnine di indicazione sui tempi di percorrenza e sull'arrivo dei bus, insomma andare a ripensare tutta la città come allo standard delle città europee, che è questo quello che manca a Palermo. Sicuramente è un argomento molto dibattuto che adesso sta animando molto la campagna elettorale sul tram sì, tram no. Noi non ci schiariamo né in un senso né nell'altro. Noi vogliamo studiare delle soluzioni strategiche importanti che vadano a rivoluzionare e a incidere sul palermitano. Sicuramente se le periferie sono distanti dal centro, quindi la prima cosa assolutamente su cui puntare è quella di avvicinare le periferie e rendere fruibile il centro cittadino, quindi non occuparci soltanto della nostra ben amata via libertà, ma creare una rete fitta di trasporti che metta in connessione tutta la città metropolitana e quindi anche la provincia. Adesso affrontiamo quello che è un altro macro argomento, ovvero i servizi al cittadino. Quali sarebbero i servizi che la nuova amministrazione dovrebbe offrire al cittadino? È un macro argomento che spazia dai trasporti ai servizi cimiteriali, ai servizi decentrati, a quelli che sono i servizi digitali. Vediamo come hanno risposto i candidati alla nostra domanda. I servizi al cittadino misurano la qualità della vita dei cittadini che vedono molto spesso, troppo spesso a Palermo, trasformare i loro diritti in favori concessi dall'amministrazione e da chi è dietro lo sportello. Questa è una realtà che deve essere assolutamente ribaltata a Palermo. Immagino chi ha avuto l'esperienza di file interminabili e attese di mesi per poter rinnovare il proprio documento di identità o per prendere un appuntamento con l'Atari. Ecco, questo è qualcosa di inaccettabile. Vanno necessariamente potenziati i servizi relativamente a questa offerta, magari anche attraverso la riapertura delle postazioni decentrate nelle circoscrizioni nei quartieri che rendano più vicina l'amministrazione ai cittadini. Ma non solo. Il Movimento 5 Stelle nel 2019 ha sollevato una pagina, direi scandalosa, che ci ha portato purtroppo agli onori delle cronache di tutta Italia. Sto parlando dello scandalo delle bare accatastrate al cimitero Verotoli. Quando ancora si parlava di solo 160 bare, il Movimento ha presentato due esposti che oggi hanno portato a 10 arresti. Ma il Movimento non si batte solo per denunciare, vuole anche portare soluzioni a servizio dei cittadini. E quindi gli interventi proposti che sono facilmente realizzabili immediatamente e che dal 13 giugno dovranno essere inevitabilmente messe in campo sono quelle del aumento dei posti di inumazione, cosa possibile sia al cimitero dei Rotoli che al cimitero di Santa Maria di Gesù. Ulteriore importante intervento è quello che riguarda il ripristino della funzionalità del forno crematorio. Sono due anni che i cittadini non possono usufruire di questo servizio e si imbarcano in viaggi della speranza per andare a raggiungere siti dove è possibile farlo nella Sicilia orientale. Anche questo è inaccettabile. Altro punto fondamentale è quello del rendere la città vivibile quartiere per quartiere. Ogni quartiere non deve essere più immaginato come una periferia rispetto al centro, ma deve essere dotato dei servizi minimi e essenziali. Parlo di scuole materne, asili nido, aree verdi, centri di aggregazione sociale e sportiva per far sì che ogni periferia diventi un comune a se stante, centro di se stesso con un punto di ritrovo che consenta a giovani, anziani e tutte le categorie di poter vivere degnamente la propria città, il proprio quartiere, la propria circoscrizione. Fondamentale per il decoro e per vivere dignitosamente la propria città è anche il decoro e la pulizia della città. Questo passa da piani di spazzamento che devono essere assolutamente messi nella disponibilità dei cittadini per quanto riguarda la valutazione di questo servizio. Io devo scendere in strada e trovare l'omino, l'incaricato che pulisce la strada. Devo avere il servizio di spazzamento automatico non solo in ottava circoscrizione ma in tutti i quartieri di Palermo. Fondamentale sia per vivere dignitosamente la propria città ma anche e soprattutto per lasciare ai turisti una cartolina che affianchi il decoro e la pulizia della città nel rispetto dei tesori di cui la città è naturalmente dotata. È importante partire dal fatto che la città non è stata ben pianificata. Quando una città non è ben pianificata significa che vive un po' la giornata, che manca l'idea generale di futuro. Cosa voglio dire? Che dobbiamo ripensare al quartiere, alle realtà di quartiere, fornire i servizi necessari. Penso per esempio agli asili nido, penso ai consultori, penso a una serie di sportelli del comune che siano proprio un punto di ascolto sui bisogni del cittadino rispetto a quella che è una città grande come la quinta città d'Italia. Abbiamo pensato a percorsi di accompagnamento soprattutto per quanto riguarda l'innovazione digitale. Molti si lamentano che il comune nel concreto è difficile avere una carta di identità in tempi brevi o avere un certificato di residenza. Ecco, questo ci impone di metterci assolutamente al passo con la transizione digitale così come ci impone il governo nazionale e accompagnare soprattutto i cittadini più fragili, penso per esempio agli anziani o a chi non ha sufficientemente mezzi per adeguarsi, a percorsi proprio di accompagnamento che noi vogliamo creare di supporto proprio a questo snellimento e a questa digitalizzazione. Un'altra cosa alla quale noi teniamo molto è preservare i diritti, i diritti degli ultimi, i diritti delle mamme con bambini, i diritti dei senza casa. Abbiamo dedicato uno dei nostri quaderni del nostro programma proprio a questi temi che a noi stanno molto a cuore. Inoltre in servizio al cittadino fa parte anche la parte come dire migliore, quella della vivibilità di una città. Per esempio il comune di Palermo, pur essendo un comune superiore ai 15.000 abitanti, non ha mai attuato la politica di un albero per ogni nascita, che è quello che noi vorremmo fare. Negli ultimi anni ci sono stati più di 58.000 nascite circa. A Palermo avremmo potuto avere un rinfoltimento del verde urbano cittadino che sicuramente avrebbe giovato alla nostra vita, non solo in termini estetici ma anche, come sappiamo, di abbassamento delle temperature, ma anche di protezione del suolo in caso di sessi, così come abbiamo visto negli ultimi anni, di alluvioni, così come abbiamo avuto. E poi abbiamo chiesto ai consiglieri comunali cosa si può fare per migliorare questa città. Alcuni punti programmatici, ognuno ha dato una propria priorità all'agenda politica. Sono tante le tematiche, sono tanti i punti su cui bisogna lavorare. Ognuno ha dato una propria idea. I progetti ci sono, le intenzioni ci sono adesso, però bisogna passare chiaramente all'azione. C'è tanto lavoro da fare e quello che spetterà al nuovo sindaco di Palermo dal prossimo 13 giugno 2022. Palermo è balzato agli onori della cronaca purtroppo negli ultimi tempi per la vicenda che parla di un fallimento. Di casse svuotate non ci sono i soldi per poter sostentare tutti i servizi essenziali della città. Stiamo parlando di tram, autobus, pulizia, cose che ci toccano nella vita di tutti i giorni. Il Movimento 5 Stelle è già al lavoro, non è un programma, è già un dato di fatto. Siamo a Roma presenti per ottenere dall'attuale governo un finanziamento importante per ripristinare i debiti delle casse del Comune di Palermo. Per Napoli, ad esempio, sono stati finanziati il ripristino e la salvaguardia dei conti del Comune con ben un miliardo di euro. La stessa cosa vuole ottenere il Movimento 5 Stelle per Palermo. Non solo, il Movimento 5 Stelle ha in programma di proseguire le attività già iniziate per il miglioramento della faccia, del volto della nostra città. Sono già stati distanziati, grazie all'intervento dei nostri parlamentari a Roma, ben 400 milioni che si sono tradotti in interventi, l'abbiamo ricordato prima, sul ponte Corleone, interventi relativi al rifacimento della definizione del cantiere all'altezza di via Paternò. Abbiamo parlato di tutto quello che riguarda la riqualificazione di pezzi importanti della nostra città, come la costa che va da Sferracavallo fino a Mondello, Vergine Maria. È stato restituito l'approdo di Vergine Maria, è stata abbattuta la passeggiata linea di Barcarello che oltre a essere obbriosa era anche pericolante. Sono stati già stanziati i soldi e verrà avviato a breve un programma di riqualificazione di tutta la costa di Barcarello. Non solo, il Movimento 5 Stelle si è mosso nei quartieri. È stato finanziato il progetto donato dal centro Padre Nostro per la realizzazione dell'asilo fortemente voluto da Don Pino Puglisi. Sono stati stanziati dal governo Conte 3 milioni per la realizzazione di questa importantissima opera a Brancaccio. A Brancaccio è previsto anche l'individuazione e la costruzione di una piazza che faccia ritornare vitale il quartiere con un suo centro. Una piazza che tra l'altro verrà collegata direttamente a via le regioni siciliana e consentirà agli abitanti del quartiere di essere direttamente connessi al resto della città. Per quanto riguarda lo sperone sono stati recuperati i fondi ex Gescal che provvederanno, che verranno utilizzati per la riqualificazione del baglio mercadante e finalmente verranno avviati i lavori per la costruzione della scuola materna in via Patti. Tantissimi altri interventi per la riqualificazione del centro storico, tantissimi interventi per dare alle categorie più deboli, sto pensando agli anziani, ai bambini, ai nostri giovani, dei centri verdi, degli spazi di aggregazione per vivere in maniera forte, unitaria, coesa la città di Palermo che deve ritornare, deve essere restituita proprio i cittadini a tutti i livelli. Il diritto all'esistenza significa che ogni essere umano ha diritto di vivere una vita decorosa, una vita degna, in cui sia accompagnato da una serie di servizi che gli consentano di migliorare la sua vita. Abbiamo pensato a percorsi di partecipazione, per esempio sulla raccolta differenziata che è un tema molto caldo della città, la situazione è sotto gli occhi di tutti, quindi estensione immediata della differenziata in tutta la città con la raccolta porta a porta che porterebbe la raccolta dal 20% all'80 o 90 addirittura per cento, con percorsi di accompagnamento sulla buona pratica. È importante spiegare ai cittadini perché devono fare la differenziata ed introdurre per esempio dei bonus di premialità, voglio dire nel concreto per esempio uno sconto sulla Tari. Dobbiamo incentivare ogni singolo cittadino a cooperare per il bene comune. Un altro tema che a noi sta molto a cuore per esempio è la possibilità di avere una città vivibile e accessibile, il miglioramento del manto stradare e la sicurezza. Ricordiamo ad esempio che il piano delle luci non si è adeguato ad una direttiva nazionale del 2012 che riguarda l'efficientamento energetico con lampadine a risparmio. Al momento noi abbiamo delle lampadine a vapori di mercurio assolutamente fuori legge. Quindi il primo passo è avere delle città sicure perché la sicurezza passa attraverso l'illuminazione e l'implementazione del fotovoltaico sia in edifici di pertinenza comunale sia a privati cittadini. Così come ci stanno a cuore i diritti di tutte e di tutti i nostri cittadini riconosciamo nella popolazione animale di Palermo una pesante situazione. sicuramente vogliamo fare una mappatura dei canili comunali, istituire dei protocolli di intesa con l'ASP veterinaria, incentivare senza altro l'adozione e garantire i diritti degli animali. In questo per esempio mi riferisco all'installazione di spettacoli circensi dove vengono impiegati animali. Quindi il nostro passo sarà quello di non consentire a questo tipo di spettacoli nel territorio della città metropolitana questo tipo di pratiche che non condividiamo assolutamente e inoltre anche la mobilità che vediamo spesso vissuta un po' come cosa folcloristica delle carrozze attraenate dai cavalli che purtroppo costringono gli animali a soffrire e quindi variare questo con dei mezzi a mobilità dolce, a pedalata assistita, elettrici. Termina qui il nostro approfondimento di politica, torniamo come sempre domani con Palermo al Voto 2022. MULTI Grazie a tutti.